Buon pomeriggio, sono Gianpaolo Pasolini dalla Pasolini Auto di Brescia. Vi presento questa Volkswagen Golf 7 serie, 1.6 turbodiesel, in allestimento Highline, top di gamma, con cambio automatico sequenziale DSG. La vettura è un unico proprietario dell'anno 2013, ha percorso 102.000 km, tutti tagliandati in Volkswagen, riscontrabile dal libro delle manutenzioni. Non ha mai subito incidenti, si presenta in condizioni impeccabili, in quanto ha sempre percorso autostrada. Viene fatturata con IVA deducibile e viene proposta a 18.900 euro IVA compresa, con 12 mesi di garanzia. Vi aspettiamo Gussago per provarla ed eventualmente acquistarla. Buon pomeriggio.